Buongiorno amici di Vino e Prati, oggi sono in zona delle Vittorie, precisamente sono in via Sabotino e vado a fare colazione da Antonini, un'istituzione nel rione, è un'attività storica qui e una qualità veramente ottima. Andiamo! Ecco qui, la nostra colazione da Antonini, un bel cornetto con la crema e un caffè, assaggiamolo! Mh, sofficissimo, veramente buono, uno dei cornetti più buoni, secondo me, della zona Prati delle Vittorie è che appunto, come vedete, vi ha lievitato soffice e la crema è molto buona, ve lo consiglio! Gli aperitivi, che sentite i snack che accompagnano gli aperitivi, guardate che bello che sono favoloso! Il locale è molto grande, è storico con Antonini, si ha la pasticceria, il bar, adesso lo faccio vedere meglio! Qui da parte di gelateria e guardate che bello, pasticcini, mignonne e torte, guardate che splendide! Beh, chiaramente Antonini in zona è veramente un'istituzione! Grazie! Grazie!